Si conferma l'idea di una stagione diversa. L'Inter vince, Lukaku segna, forse si avvicina alla fine anche il caso Icardi. Il resto del campionato non stupisce, semplicemente aspetta. C'è spazio però per chi ha voglia di correre e dà un buon allenatore, cioè buone idee. È strano come il miglior risultato della prima giornata vada alla squadra più tormentata dell'estate. Io non credo alla follia delle squadre, credo alla costanza dei loro errori. Stavolta l'Inter è diversa non tanto nei giocatori quanto nell'interpretazione della partita. È cambiato qualcosa, forse molto, come una ribellione che cerca se stessa e la propria convinzione definitiva. Sabato c'è Juve-Napoli e Roma-Lazio. L'Inter ha tempo e modo di poter correre fino al derby. Dopo sarebbe fuga, non più resistenza. L'idea è che Conte c'è.